Fratelli, senza l'inverno non c'è primavera e non c'è estate. Senza l'inverno non ci sono germogli, è la natura, è il piano, il disegno di Dio. Senza la terra, nella quale il sene penetra, scende, si risolve, muore, non c'è frutto. Invece il Signore, il chicco di grano, non cade in terra e muore, rimane solo. Ecco, non mi piace l'inverno perché non mi piace morire, perché non mi piace perdere la vita, perché non mi piace accogliere la storia così come Dio la porta e la conduce. Non mi piace l'inverno perché è come una bocca spalancata davanti ai miei progetti, pronta a felicitarli, a disfolverli, a cambiarli. L'inverno, invece, è necessario. L'inverno è la stagione fondamentale. Nazareth è stata fondamentale per Gesù. Trenta anni a Nazareth, un paesino quattro case, non sarà neanche la carta geografica. La inutilità più totale, la irrilevanza più totale. C'è un pezzo di terra dove Gesù, il figlio di Dio, si è nascosto, si è dissolto. L'utero, le viscere, dove Gesù è stato generato e dove è stato allevato per compiere la sua missione. Per compiere la missione di salvezza, per compiere la missione impressionante. Senza Nazareth, senza i trent'anni di Nazareth, nel nascondimento, nel totale irrilevanza, sconosciuto a tutti. Lì non ha scritto niente di quei trent'anni, niente. Qualcosa sulla nascita, ancora i dodici anni, poi le fresce, la insapienza e grazia, basta. Trent'anni di Gesù, figlio di Dio, Dio stesso. Trent'anni a Nazareth, niente. Trent'anni di inverno, inverno totale. La terra, poi la nere, poi il freddo. Le foglie secche, tutto. Fondamentale, importantissimo. Senza di quello, Gesù non avrebbe dato la sua vita. L'uomo Gesù non avrebbe potuto accogliere l'ispirazione, la spinta di Dio, cioè lo Spirito Santo. Gesù era libero, non era obbligato. Gesù era libero. Gesù è stato l'uomo perfetto perché è stato l'uomo perfettamente libero, perché nella sua libertà è stato perfettamente uomo, accogliendo nel Gessemani ciò che lo Spirito Santo, ciò che la sua parte divina, la sua natura divina, lo invitava, lo spingeva a fare. Ma nel Gessemani è stato possibile perché? Perché è stata Nazareth. Questa parte di terra oscuro, quell'inverno oscuro, dove Gesù stava per entrare. Si è inchinato, inginocchiato, con forti grida e lacrime, con un sudore che diventava sangue, questa angoscia, questa giornata uggiosa, fredda, l'inverno che stava ingoiando Gesù, questa soglia, la passione della voce del sepolcro. Non sarebbe stata possibile senza i trent'anni a Nazareth. Lo dico così chiaramente. Come è possibile vedere Germogli su un albero se prima l'inverno non ha fatto marciere sotto terra il seme che si è a poco a poco fatto strada in mezzo al buio, in mezzo alla terra, ogni istante, ogni giorno più forte, fino a bucare la terra, fino a vedere la luce, la risurrezione e crescere forte come un albero, verso il cielo, innalzandosi verso il cielo dove c'è la vita, dove prende la vita una volta risorto, una volta uscito alla luce. Il mondo sta aspettando di vedere i Germogli, i primogeniti. La parola prega Mietitura è legata alla parola estate. Mietitura, terismo, è collegato a Teros, estate. In una scrittura, l'avvento del Messia, l'avvento del Signore, è scritto proprio come una Mietitura. Per questo tutto ciò che prepara l'estate è fondamentale. Inverno e primavera sono legati indissolubilmente. Bisogna entrare nell'inverno, bisogna entrare nella terra, bisogna entrare nella storia, bisogna entrare nei fatti che distruggono l'uomo vecchio, che dissolvono il seme, che portano l'accio di cui è rivestito il seme, che proprio si dissolvano, che diventino un tottuno con quella terra, perché quello che c'è dentro, la vita è invisibile agli occhi, che non puoi percepire. Quello che è vitale, quello che è potentemente vitale, tutto il potere di crescere e di diventare un albero impressionante, pieno di frutti buonissimi. Ecco, quel processo che si fa con quella rotta terra è fondamentale. È l'inverno. E dice il cantico di cante, dice, l'inverno è passato. Coraggio, è lo sposo che arriva. Guarda, il filo ha messo i primi frutti. Proprio come dice il Vangelo di oggi, il Vangelo di inverno è passato. Cioè il mondo ha bisogno di vedere persone che sono passate verso la grande tribolazione, persone che sono entrate nell'inverno. E nell'inverno hanno già vissuto le primizie della vita eterna. Cioè nell'inverno loro sono stati come deposti nella morte, nella certezza che quel passaggio è lo stesso passaggio che la parola di Dio, la parola di Dio fatto carne. Tutto passa, le mie parole non passeranno in eterno. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Vuol dire che tutto passa, che tutto è transitorio. Che nella nostra vita nulla è stabile. Questo è quello che noi odiamo e non sopportiamo, ma che il mondo non può accettare. Perché la transitorietà, la precarietà, che è immagine della vita dei progenitori, gli andammo di Dio prima del peccato. La totale precarietà, perché Dio in tutto provvedeva. Era Dio, l'autore della vita, l'autore della storia. Orano amministratori dei beni di Dio. Per questo soltanto amministrare, cioè vivere istante dopo istante, delle sue parole, del suo amore, della sua provvidenza, della sua generezza. Il peccato di tutto, tutto questo. Perché il peccato è l'orgoglio, l'impossibile di vivere la precarietà. Cioè il fatto che il cielo e la terra passano, il fatto che passi la tua vita, che diventi anziano, che non ce la fai più a camminare, che non ti ricordi le cose, il fatto che le cose ogni giorno sono diverse, che sta passando tutto. Questa Pasqua che sta iscritta nella storia, che sta iscritta nella biologia, che sta iscritta in ogni vita, in ogni storia, in ogni situazione, questa Pasqua ci annichilisce. Uomini vecchi, uomini borghese, uomini che vogliono il sofà e il caminetto, uomini che vogliono rintanarsi come una tartaruga dentro al suo guscio, come le noi che intanto la loro sana, uomini che ci sono ripiegati in un'adorazione totale, completa del proprio io. Dio ha creato tutto per l'esistenza e in tutto c'è bontà, bellezza. Allora Cristo è entrato in questo passare, il cielo e il terra, a passare tutte le cose che ci sfuggono di mano, per cui lo difende, lei dice, ci difende la propria vita, la perde. Cristo è entrato in questa dinamica e ha perduto la vita, per ritrovarla. Cioè, perdendo la sua vita, ha santificato, ha benedetto, ha colmato di senso, di compimento, proprio quello che è il perdere la vita di tutte le persone. Cioè, riscattare le conseguenze del peccato, il sudore sulla fronte e il parto con dolore, che sono due immagini, no? Dell'uomo, del massimo e della femmina, cioè le conseguenze dei peccati. Gesù Cristo ha riempito di senso e orientato al destino eterno ciò che senza di lui sarebbe passato di inutilità. Per questo è stato trent'anni a Nazareth, perché è dovuto entrare nella inutilità, nella insignificanza, è dovuto abituare, crescere, fortificarsi in ciò che gli uomini aburriscono, in ciò che gli uomini non sopportano. Stare a Nazareth, stare nell'inverno, stare sotto terra, perdere la vita, come una donna che non sopporta, stare a casa. Perché perdere la vita in quelle quattro mura è insopportabile, soffocante. se io mi sposo pensando che già stare a casa offrendo la mia vita per amore a mio marito e ai figli che Dio mi vorrà dare, è come una condanna frustrante. Significa essere ancora completamente legati alla carne, avere terrore dell'inverno, avere terrore di Nazareth, avere terrore della infinificanza, avere terrore di amare, essere incapace a perdere la vita. Per questo quello cova dentro un adulterio, come un uomo che non sopporta perdere la vita al lavoro, un lavoro rutinario, un lavoro dove magari il capo ti fa mobbing, ti insulta, dove gli altri cercano di farti le scarpe. Ogni giorno, ogni giorno, allora cerca di gratificarsi, cerca e spera gratificazione sul lavoro, oppure forse con gli amici, con le evasioni, perché tutto questo è impossibile all'uomo vecchio di entrare nell'inverno, dell'inverno che è servire sottomessa tuo marito, stare un passo indietro a lui, di fronte ai figli, è impossibile, è impossibile perdere la vita per tua moglie costantemente, rispettandola nei suoi tempi, nelle sue difficoltà, anche sessuali, rispettando i suoi momenti. Tu marito perdere la sua vita per tua moglie 22 su 24, rinunciando a evadere con gli amici, la partita di calcetto, perché io devo avere il mio spazio durante la settimana, magari queste due o tre ore non mi deve togliere nessuno, se no scoppio. Scoppi, ma sei segnalato per scoppiare, sei segnalato per scoppiare, sono stato inviato qui in missione per scoppiare qua in Giappone, se no che prese sono che difendo la mia vita, allora la perderò completamente. Anche quello penso di avere, invece no, perché tutto passa, ma la parola di Dio non passa, cioè Cristo è la parola di Dio, queste parole non passeranno perché tutte si compilano, tutti sono compiute in Lui, la vita si compie in Lui, Lui ha vinto la morte, Lui ha fatto, ha aperto un cammino dentro all'inverno, dentro alla terra, per puntare nella primavera, il mondo aspetta, una moglie che passa attraverso questo inverno, attraverso la morte, attraverso ciò che nessuno sopporta, stare lì, pulire, pensare cosa cucinare, di nuovo, stirare, pulire dietro la tazza del gabinetto, dove nessuno vedrà mai, ma poi è un atto d'amore, perché entrare dentro un bagno dove c'è una tazza pulita, lucente, che profuma, entrare in una stanza dove non c'è polvere, dove si vede che una donna ha perduto la sua vita, ha perduto il suo tempo, quello è l'amore, a quell'inverno, quella solitudine della donna lì pulendo casa, che in mente potrebbe fare moltissime cose, gli utili nella società, o prendere i soldi, ma indipendenza, gratificazione, e altre cose, perché insomma, la casa una volta che è data una spazzata, è un principio profondo, è l'incapacità che tutti noi abbiamo di perdere la vita, ma quello si respira, si vede, una casa che non è curata, c'è una superficialità, ci sono donne che sono chiamate da Dio, a perdere la propria vita anche al lavoro, perché magari il marito sta male, ma Dio gli moltifica le grazie, ma quella donna non cercherà la sua vita nel lavoro, perderà la sua vita nel lavoro, perché in quel momento contingente è necessario che Dio ha mostrato quello, sto parlando di uno spirito. Lo spirito santo, oppure il cosiddetto spirito libero, uno spirito libero tanto esaltato dalla cultura moderna, che significa autoreferenzialità, autodeterminazione, così come un marito che vive indipendentemente dalla moglie, il punto alla fine non è nemmeno lavorare o non lavorare, il punto è amare o non amare, a che cosa sono chiamato? Ad essere una sposa e madre cristiana? Uno sposo e un padre cristiano? Allora tutto passa, anche se fossi la testa più intelligente di questa terra, la scienza gonfia, la carità edifica, se vivo nella parola che non passa, potrò anche ritenere spazzatura la mia suda intelligenza e servire nel nascondimento e spesso nell'insignificanza senza nemmeno la gratitudine mio marito e i miei figli o mia moglie e i miei figli, così la mia parrocchia, così il posto di missione, così per ogni chiamata con la quale Dio ci ha raggiunto e ci ha coinvolto nella sua Pasqua. Oggi il Signore ci chiama a entrare nell'inverno, a lasciarci portare dove Lui ci sta conducendo, a entrare a Nazareth, a imparare, ad amare. Attraverso la parola che ci predica la Chiesa, che illumina le nostre sofferenze, le nostre notti, i nostri inverni, le frustrazioni, le malattie, i problemi, come il passaggio necessario all'estate, la Pasqua che si deve compiere in noi perché si compie in noi la missione che ci ha afficato il Signore. Perché il mondo ha bisogno di avere la speranza che esiste l'estate, perché sono germogli, ancora verdi forse, ma germogli di vita nuova che ha bucato la terra, la corteccia che sono passate attraverso l'inverno e non sono rimasti lì, anzi, morendo nell'inverno non sono rimasti soli, sono risorti e avendo frutto, il frutto che Cristo ha dato dopo la tomba, la sua risurrezione che è garanzia del perdono dei peccati e della vita nuova nella quale tutti noi possiamo camminare. e la sua risurrezione e la sua risurrezione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.